Lo hanno definito un blitz, quello che ieri il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha fatto davanti agli istituti rioniti San Giovanni Battista, nella centrale Piazza Garibaldi. Il motivo? La notizia dell'arrivo di 20 profughi provenienti dalla Calabria. Per farlo ha chiamato a suo sostegno anche i rappresentanti di Casa Pound e proprio questo ha fatto scattare la polemica dell'opposizione, che lo ha definito xenofobo. Le polemiche fanno bene a chi non ha nulla da fare, a me fanno soltanto sorridere. Ieri con l'aiuto non di Casa Pound ma anche dei ragazzi di Casa Pound abbiamo voluto mostrare tutta l'avversità della città nei confronti di un progetto che il delegato di D'Alfonso voleva si compiesse su Chieti che era quello di far arrivare negli storici istituti San Giovanni Battista dove sono ospitati anziani, persone disabili, con difficoltà psichiche e vicino ad una scuola elementare i profughi che arrivavano dalla Calabria. Io questo non lo permetterò mai. L'ho detto al prefetto, l'ho scritto al prefetto, l'ho detto al presidente degli istituti riuniti. È una soluzione assolutamente inopportuna in città. Noi vogliamo fare accoglienza, vogliamo essere vicini a chi fugge da guerra e da povertà ma non posso compromettere mai i diritti dei miei cittadini, mai comprometterò i diritti dei miei cittadini, la necessità di sicurezza dei miei cittadini per un progetto che è quello della cattiva gestione dei flussi migratori nella nostra nazione. Questo deve essere molto chiaro e lasci che lo dica. Io per primo non mi interessa se il ministro Alfano è del mio stesso partito. Io difendo la mia città contro tutto e contro tutti. Difesa del proprio territorio, dice Di Primio, ricordando anche la difficile situazione economica che vivono tanti cittadini del suo territorio e la necessità di provvedere a chi confida nelle proprie istituzioni. L'atto di Di Primio ha ottenuto un risultato, quello di evitare l'ingresso dei profughi, ma non l'ipotesi di nuovi arrivi. Le coste italiane sono di nuovo meta di sbarchi e cresce la preoccupazione. Il presidente degli istituti riuniti ha partecipato ad un bando della prefettura per la messa a disposizione di locali per ospitare i profughi e i profughi, gli immigrati. E gli istituti sono terzi in graduatoria. Quindi ogni qualvolta si presenterà questa emergenza, e mi sembra che andiamo verso una emergenza continua con l'avvicinarsi dell'estate, gli istituti potrebbero ospitarli. Bene, questo deve cessare come ipotesi, perché non consentirò mai che entrino in quella struttura degli immigrati.